Il pranzo della domenica con YouSlow Web Radio. Cultura, monumenti, grandi personalità che hanno fatto la storia, raccontati dall'avvocato Alessandro Del Nino. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Il pranzo della domenica. Questa volta ci richiamo in Campania per parlare di un personaggio noto in tutto il mondo che davvero rappresenta il concept di questa nostra rubrica, cioè raccontare di personaggi, luoghi, eventi o monumenti conosciutissimi, ma approfondendo quelle curiosità a volte davvero incredibili che ai più sono sconosciute. E se c'è un personaggio di cui ora vi dirò e che sarà protagonista della puntata che consente di elencare un numero veramente ampio di curiosità, questo è Pulcinella, l'antica maschera napoletana, la più popolare e antica. Personaggio di fantasia conosciutissimo, ma che presenta una serie di aneddoti, curiosità, caratteristiche che racconterò in questa puntata e che sono sicuro sorprenderanno gli ascoltatori. Intanto la prima curiosità. Pulcinella è una maschera originaria di Napoli? No, non è affatto una maschera napoletana, anche se incarna tutte le caratteristiche del popolo napoletano. Le sue origini sono dibattute tra due città della Campania. Acerra, per cui il nome di Pulcinella deriverebbe da Puccio Daniello, che era un contadino di Acerra del 600, reso tra l'altro famoso da un ritratto di Ludovico Carracci, che aveva la faccia scurita dal sole, abitava in campagna, lavorava, aveva il naso adunco e lungo e faceva il buffone, tanto che verso il 1600 si unisce ad una compagnia di commedianti girovaghi. Quindi un primo tratto distintivo della cultura agricola e popolare porterebbe la nascita di Pulcinella ad essere ricollegata ad un personaggio realmente a esistito originario di Acerra. L'altra città che si contende le origini di Pulcinella è Capua, con il suo cittadino e attore Silvio Fiorillo, nato tra il 1560 e il 1570, che avrebbe inventato, c'è chi dice addirittura ad Acerra, nell'ambito della commedia dell'arte che a quei tempi si affermava, la maschera di Pulcinella. Fiorillo fu interprete di un personaggio da lui inventato, il capitano Matamoros, la Mazzamori, un personaggio ispirato ai soldati cristiani che nella Spagna del 400 combattevano i Mori, cioè gli arabi musulmani. Nella commedia dell'arte il capitano Matamoros era un soldato spagnolo che ha tutte le caratteristiche di Pulcinella, Spaccone, Vigliacco, millantava imprese mai compiute. Nel 1609 questo Silvio Fiorillo di Capua scrive l'opera teatrale per cui resterà famoso, La Lucilla Costante, che viene messa in scena per la prima volta nel 1632, ed è in questa commedia che compare per la prima volta nella storia del teatro il personaggio di Pulcinella, o meglio di Policinella, secondo l'espressione dialettale arcaica. L'ambientazione nella città di Capua della commedia è certa, nella scena ottava dell'atto primo della Lucilla Costante. Lucilla è una giovane e bellissima capuana che il vecchio padre Alberto vuol dare in sposa al capitano Matamoros, ma Lucilla è innamorata, come nella commedia dell'arte spesso accade di un altro, Fulgenzio, e Pulcinella compare in scena sfidando il capitano Matamoros e vincendolo con l'inganno che è la caratteristica tipica della nostra maschera. Quindi la prima curiosità riguarda le origini non napoletane di Pulcinella. La seconda curiosità è che le origini in realtà possono farsi risalire a tempi davvero antichissimi. Sentite il racconto che segue. Intanto, nella Roma antica, parliamo del IV secolo a.C., vi era una forma di spettacolo molto popolare, le fabule atellane. Potremmo paragonare le atellane a quello che è oggi il teatro vernacolare, dialettale, ed era un tipo di teatro apprezzatissimo soprattutto dal ceto medio-basso del popolo romano. Bene, in queste atellane c'è un personaggio che si chiama Maccus, che rappresentava il tipo di servo, sentite le caratteristiche, con il naso lungo, su cui appoggiava una mezza maschera nera, faccia bitorzoluta, guance grosse, ventre prominente, che indossava una camicia trasformata in una veste larga e bianca e recitava con voce, chioccia e stridula. Quindi alcuni studiosi ritengono che Maccus, del teatro antico di Roma, delle fabule atellane, sia il Pulcinella, che poi la commedia dell'arte nel Cinquecento si sarebbe limitata a riprendere e adattare. La terza curiosità del nostro personaggio, il vestito di Pulcinella. Intanto, il costume, come lo conosciamo noi, fu inventato solo nell'Ottocento, da Antonio Petito, che probabilmente è stato il più grande interprete, il più grande Pulcinella della storia del teatro. Fu drammaturgo, fu regista, e in origine la maschera, che aveva inventato invece nel Cinquecento Silvio Fiorillo, indossava un cappello bicorno, che è diverso da quello attuale, che chiamiamo a pan di zucchero, e portava barba e baffi. La sua maschera poteva essere sia bianca che nera, tant'è vero c'è un paio di dipinti, ci sono un paio di dipinti del pittore veneziano Gian Domenico Tiepolo, che rappresentano Pulcinella, a volte con la maschera nera, a volte con la maschera bianca. Tradizionalmente il Pulcinella di Petito, ed è il vestito che conosciamo noi, indossa un'ampia casacca bianca, stretta in vita da una cintura nera su pantaloni bianchi molto abbondanti, scarpe nere, in testa porta un cappello bianco di stoffa, e sul volto una mezza maschera nera, con un naso lungo adunque pronunciato, che lascia scoperta la bocca. Ora, è proprio il vestito di Pulcinella che ci porta forse alla quarta e più interessante curiosità, l'ermafroditismo di Pulcinella. La parte superiore, se pensiamo alla maschera, quindi il naso adunco, il cappello a punta, il corno, è maschile, mentre la parte inferiore, il ventre gravido, le natiche enormi, i seni prominenti, è femminile. Tra l'altro il ventre gravido di Pulcinella rappresenta l'allegoria della maternità, quindi la parte femminile, ma rappresenta anche la fame. Pulcinella è sempre alla ricerca di maccheroni per i vicoli della sua città. E tra l'altro anche il nome di Pulcinella farebbe riferimento al suo ermafroditismo. Sarebbe il diminutivo femminilizzato di Pollo Pulcino, che è un animale non riproduttivo, e infatti Pulcinella tra l'altro imita la voce del pollo con la sua voce chioccia e stridula. Dunque Pulcinella si conferma come una figura a metà tra uomo e donna, a metà tra città e campagna, demone e santo, un dualismo che non solo ci ricorda la coesistenza degli opposti, quindi uno dei nuclei centrali dell'esoterismo, ma ricorda anche la contrapposizione che nel mondo e nel popolo napoletano c'è tra paganesimo e cristianesimo. Pensiamo solamente alla devozione cristiana a San Gennaro, ma anche che quel napoletano devoto poi si reca al cimitero delle Fontanelle, che raccoglie i resti di circa 40.000 persone, morte di colera, peste tra il 600 e l'800, e il cimitero è noto per un'usanza tipicamente pagana, perché vi si svolgeva, e in parte ancora si svolge un rito particolare, quello delle anime pezzentelle, che prevede l'adozione e la sistemazione in cambio di protezione di un cranio, detto la capuzzella, al quale corrisponde un'anima abbandonata e dunque pezzentella. Il vivo se ne prende cura di quel cranio, in modo del tutto pagano, e l'anima pezzentella conferisce protezione. Ma torniamo all'ermafroditismo di Pulcinella. Intanto a confermare questa tesi c'è anche l'iconografia artistica, che lo rappresenta come un ermafrodito autofecondante. Pulcinella muore alla fine del carnevale, subito dopo aver partorito attraverso un uovo, il nuovo Pulcinella. Quindi l'uovo ci porta anche a rispondere a un'altra domanda, a un'altra curiosità. Vi siete mai chiesti perché un personaggio funereo come Pulcinella, la maschera nera, il naso adunco, l'incarnato cadaverico, il corpo deforme, la casacca bianca come un lenzuolo di un fantasma. Non vi siete mai chiesti come mai queste caratteristiche decisamente inquietanti possano rappresentare la solarità del popolo napoletano? In realtà tutte le figure, le maschere della commedia dell'arte hanno una origine demoniaca. Intanto il fatto che Pulcinella abbia un naso adunco e nasca da un uovo di gallina ci riporta a Persefone, la gallina è l'animale sacro a Persefone, la sposa di Ade e regina degli inferi, e quindi Pulcinella incarna la morte e le miserie umane, ma allo stesso tempo incarna il modo di scongiurare la morte e le miserie umane grazie al suo cappello a forma di corno dell'abbondanza e grazie al suo fare farzesco. Apro una parentesi per raccontare un'altra curiosità su una notissima maschera della commedia dell'arte, e cioè Arlecchino, per farvi capire come queste maschere che poi rappresentano l'allegria e il divertimento hanno un aspetto anche demoniaco collegato alle divinità ctonie, cioè sotterranee. Arlecchino ha una origine bergamasca, è la figura più famosa, la maschera più famosa insieme a Pulcinella, ma ci riporta al mondo agricolo antico, ancora una volta agli antichi romani, quando durante l'inverno, con la morte della natura, si riteneva che un corteo di demoni volasse sopra i campi, e chi era il demone sotterraneo che guidava questo corteo? Era Erlecchino, e non dobbiamo dimenticare che Dante, nella Divina Commedia, cita il demone tra i pochi nomi di demoni che fa, cita il demone Alichino, membro dei Malebranche, che sono un gruppo di diavoli incaricati di ghermire i dannati della bolgia dei barattieri, dei corrotti che escono dalla pesce bollente. Quindi la maschera cinquecentesca e seicentesca di Arlecchino evoca il ghigno nero del demonio, anzi addirittura, se ci fate caso, presenta sul lato destro della fronte persino l'accenno di un corno demoniaco. Ma torniamo a Pulcinella. I ruoli che questa maschera ricopre nella Commedia dell'Arte sono molti e simboleggiano, lo abbiamo già detto, i difetti e le qualità del popolo napoletano. Pulcinella è al contempo comico e tragico, è ingenuo e scaltro, è affidabile e arrogante, è ricco e povero, vedete la coesistenza degli opposti, è un servo scaltro, ma è svogliato, per vivere si adatta a fare un po' di tutto, dal ladro al fornaio, dall'oste al contadino, gira per i vicoli della città di Napoli alla ricerca di espedienti per sopravvivere o alla ricerca di occasioni per prendersi in gioco, prendersi gioco dei ricchi e ovviamente come non è capace di stare fermo non è capace di trattenere i segreti, per questo abbiamo il detto, il cosiddetto segreto di Pulcinella. Ma c'è un'altra curiosità, a un certo momento la maschera di Pulcinella diventa il personaggio italiano più famoso del mondo, questo accade a partire dal Settecento. Pulcinella oltrepassa i confini nazionali e arriva in terre lontane, diventando appunto il personaggio più celebre del mondo. Lontano da Napoli cambia nome, cambia qualche tratto caratteristico della maschera, ma resta riconoscibile. E allora come si chiama Pulcinella in Francia? Si chiama Policinella, a Londra diventa Punch, a Istanbul nel teatro turco diventa Karagoz, in Spagna Don Cristobal, in Germania Caspar e a Mosca Petruccia. Andiamo a concludere la nostra puntata con le ultime curiosità. Il personaggio di Pulcinella si afferma anche nel teatro dei Burattini, anzi diventa simbolo del teatro dei Burattini, diventa l'emblema. Io stesso che sono romano ho un ricordo di infanzia, molti ascoltatori romani ricorderanno il teatrino dei Burattini sul Colle Gianicolo, era usanza che i nostri genitori ci portassero da piccoli la domenica a vedere il teatro dei Burattini che fortunatamente è ancora lì e con una famiglia che da oltre 50 anni lo ha gestito, poi sono finiti gli eredi e adesso questo teatrino è preso da due giovani benemeriti che portano avanti una tradizione che vedeva i bambini a partire da me quando ero bambino estasiati di fronte alle mazzate che Pulcinella dava ai Carabinieri, ad altri Burattini e quindi ci divertivamo la domenica. Bene, però quello che non si sa è che come Marionetta, o meglio non si ricorda perché basta leggere il Pinocchio di Collodi, nelle Marionette e nel Pinocchio di Collodi Pulcinella e Arlecchino sono servi del perfido Mangiafuoco. Pulcinella si ribella a Mangiafuoco dopo averlo accusato delle più turpi malefatte e truffa in un secondo momento il povero Pinocchio. Di Pulcinella sono stati interpreti i più grandi attori napoletani, abbiamo già detto di Petito nell'Ottocento, ma Edoardo De Filippo, Nino Taranto, persino Massimo Ranieri, Massimo Troisi furono dei grandissimi Pulcinella. E allora chiudiamo questa puntata con due consigli. Il primo è il consiglio di andare a visitare il Museo del Folclore della Civiltà Contadina nel Castello di Acerra. La visita merita doppiamente, sia perché il Castello di Acerra è un sito meraviglioso, è un castello risalente al IX secolo, sia perché una parte importante del Museo del Folclore è dedicata appunto alla storica maschera di Pulcinella. Quindi Acerra rivendica poi alla fine l'origine della maschera della Commedia dell'Arte. E l'indicazione, il suggerimento del libro è al tempo stesso anche una curiosità. Infatti il libro che indico oggi si intitola La vera storia del cranio di Pulcinella, le ragioni di Lombroso e la verità della fisiognomica, è un libro del 2007, l'autore si chiama Dario David, Magi Edizioni, e il libro riporta uno studio che ipotizza che la forma della maschera di Pulcinella interpreta un comune denominatore fisiognomico delle caratteristiche, pensate, somatiche craniometriche che contraddistinguono il popolo dei vicoli di Napoli. Per esempio le arcate sopraccigliari pronunciate, per esempio gli occhi incavati, lo stesso naso adunco, si suppone che siano caratteristiche fisiognomiche che si sono tramandate nel corso dei secoli con grande frequenza nei fitti e chiusi microsistemi dei quartieri popolari di Napoli. Bene, io ho terminato e non resta che augurare a tutti gli ascoltatori buon pranzo della domenica e dare appuntamento alla prossima puntata.